L'alto patronato della Presidente della Repubblica, ma non solo, notizia di questa mattina, l'annuncio di una corposa donazione di beni alimentari non deperibili direttamente da Sergio Mattarella. La ventottesima colletta del Banco Alimentare si arricchisce dunque di questo prestigioso riconoscimento rispetto a un bisogno sempre più crescente da parte di quella fetta di popolazione che fa fatica a mettere qualcosa a tavola. Sì, noi siamo onorati di questo. Il Presidente ha voluto fare una donazione di generi alimentari non deperibili, quelli compresi nel volantino che stiamo dando a tutti questa mattina. Ha mantenuto molta discrezione su questo, ma noi sappiamo che c'è stata questa sua grande vicinanza, oltre che la concessione dell'altro patronato, e ne siamo particolarmente fieri naturalmente. Fedeli fin dalla prima edizione, seconda metà anni 90, anche l'Abruzzo e il Molise, con numeri di immensa partecipazione sia per quanto riguarda i supermercati che per quanto riguarda il vero e proprio esercito di volontari, da giovani studenti a liberi professionisti e perfino noti imprenditori. Al Conad di Viale Marconi a Pescara abbiamo visto questa mattina all'opera anche Federica Chiavaroli. Noi abbiamo su Abruzzo e Molise più di 438 punti vendita, sui 440, in Abruzzo siamo sui 370 punti vendita. I volontari in tutto necessari per fare la colletta alimentare in Abruzzo e Molise sono 5.000 e in Abruzzo 4.000. Ed è un grande gesto di popolo, ricordo che la colletta si fa in tutta Italia, e soprattutto mi piace ricordare che cresce sempre di più, grazie al lavoro che il Banco Alimentare dell'Abruzzo sta facendo in maniera molto insistente, l'apporto degli studenti delle scuole superiori, che quest'anno sono più di 1.600 in Abruzzo e Molise, dei quali 800 soltanto nell'agglomerato Pescara Chieti. partecipano gli istituti più rappresentativi delle scuole della città e della regione e questo è un dato che ci rende orgogliosi perché è in continua crescita e crediamo che per il valore educativo del gesto della colletta la cosa principale sia quella di proporla ai ragazzi quanto più possibile. Si dice spesso che il vero scopo del Banco Alimentare è quello di scomparire perché vorrà dire che nessuno ha più bisogno di un pasto donato, ma purtroppo anche quest'anno il numero degli assistiti più che diminuire cresce. Siamo ormai giunti a quota 40.000 tra Abruzzo e Molise e parliamo di quelli certificati con l'Ise e sostenuti dagli enti preposti. Noi abbiamo in Abruzzo 34.477 persone raggiunte dal Banco Alimentare per bisogni alimentari, ricordo che il Banco Alimentare eroga le risorse alimentari che raccoglie a persone che sono sotto soglia povertà con l'Ise documentato quindi questo ci fa capire quanto sia importante purtroppo ancora questa attività. Assiste 227 enti caritatevoli, dei quali 185 in Abruzzo e grazie alla colletta riesce ad approvvigionarsi per tutto quanto è necessario. L'anno scorso abbiamo raggiunto le 240 tonnellate, quest'anno crediamo di superarle. è tenuto conto che l'International Food Programme statisticamente dice che per arrivare ad un pasto occorrono 500 grammi di prodotti alimentari, pensate sulle tonnellate raccolte nella colletta quanti pasti vengono raccolti per quante persone. I numeri degli assistiti sono in crescita rispetto agli ultimi dati? Purtroppo sì, sono in crescita. È in crescita la forchetta sociale che c'è fra il benessere vero e quello che purtroppo continua a coinvolgere anche la parte della piccola borghesia che sta scivolando sotto soglia povertà.